E ora il nostro spazio è dedicato alla musica con un protagonista speciale, lui è poliedrico, artista napoletano, cantautore, regista, ma anche molto noto per gli appassionati di YouTube. Il piacere di avere qui ai nostri studi il nostro Stray che ci presenterà questo suo nuovo singolo in uscita, Uscire. Ecco abbiamo fatto questo gioco di parole, ben trovato, Stray come stai? Ciao, bene, grazie. Allora quindi siamo qui per presentare questo tuo ultimo singolo attraverso un videoclip e quindi prima di iniziare questa piacevole chiacchierata, se sei d'accordo io direi di goderci questo singolo, Uscire, di cui sei, ricordiamo, ai nostri telespettatori, ideatore, regista e poi torniamo qui per raccontare tutte le novità che ti riguardano. Vediamo insieme questo videoclip Uscire di Stray. E allora esco, scendo in città e poi ci resto, vado di là e non c'è gusto e la libertà, ma che mi serve se non sei più qua? E' uscito, complimenti, complimentissimi, che bello questo brano, abbiamo ammirato il videoclip, Stray grazie, appunto titolato Uscire che idealmente potremmo dire Stray è un po' la continuazione di un altro tuo brano, un altro grande successo a pezzi perché metaforicamente presumo che il messaggio sia questo, dopo la distrazione c'è sempre una fase di rinascita, quindi un po' presumo che per te uscire, hai voglia significare simbolicamente uscire un po' dalla nostra comfort zone. Sì, diciamo se in a pezzi avevo narrato, come mi sentivo, diciamo frammentato addirittura in parti. Molto particolare anche il videoclip, no? Vediamo la volta scorsa anche. Sì, esatto, esatto. Qui invece racconto della fase successiva, ovvero quella di riuscire ad uscire da una situazione, da una relazione e quindi arriva sempre del resto della vita il momento in cui bisogna un po' ricucire questi pezzi, infatti in uscire nel testo dico proprio dovrò poi ricucire e poi resuscitare, dico appunto. E diciamo che questa canzone, come tutte e un po' i miei singoli, ha un termine ambivalente che è proprio lo stesso uscire, perché parla da un lato dell'uscire proprio con gli amici, letteralmente. Però c'è anche poi l'idea, c'è l'aspetto ideale, no? Come riuscire ad uscire da un sentimento comunque doloroso, no? E anche dalle abitudini legate a una relazione, non è facile però diciamo questa canzone nonostante tutto ha anche una morale positiva perché diciamo implicitamente è un invito a riprendere in mano praticamente la propria vita. Le ridiche della propria vita, ecco un brano anche un po' commentiamo, il videoclip perché è un anno ricco di anni 90, sia un po' nelle sonorità ma anche nelle immagini del videoclip perché c'è una mescolanza, si mescola il vecchio al nuovo attraverso un'alternanza di sequenze visive. Sì, perché ho messo degli effetti un po' VHS in alcune sequenze, era un po' per accentuare anche delle influenze del brano, alcuni hanno detto che ricorda un po' Max Pezzali degli 883, quindi diciamo sicuramente una delle mie, come posso dire, lui è stato uno sicuramente delle mie fonti ispiratrici. Sì, è molto particolare perché ti chiedo anche come si riesce ad elaborare alla tua maniera la musica ma anche le immagini vintage andando comunque a sintetizzare, a mescolare stili registri dell'Eurodance, passando per il rap e ancora il taglio visivo del VHS, insomma sicuramente un'operazione non banale, comunque bella studiata, ma io ti chiedo anche perché ti soffermi su quel periodo, che cos'è che ti ha colpito, ti colpisce ancora tutt'oggi? Ok, è innanzitutto il periodo in cui sono cresciuto, quindi inevitabilmente ho molte influenze di quel periodo e poi mi sono innamorato della musica in quel periodo, quindi sono un ragazzo degli anni 90 e quindi a forza di cose, diciamo sia nella musica che nel video, cerco di mettere tutto quello che è il mio vissuto, quindi non solo nei testi ma anche nelle influenze. Come hai detto tu appunto in questa canzone c'è addirittura una strofa un po' rap, c'è un po' di rock, io cerco la mia identità quasi nel non averla diciamo. E anche un po' nel testo, molto particolare, tante insomma le metafore, perché la routine del quotidiano a cui tu fai riferimento non è solo la quotidianità, laddove ritroviamo gli affanni, degli errori e delle cadute, ma anche la mancanza di riuscire a rischiare nella musica. Sì perché molti diciamo molti artisti affrontano la musica come se fosse un po' un compitino, nel senso io so che questa cosa va, faccio questa cosa in questa maniera, quindi sicuramente avrò un riscontro. Io diciamo vivo la musica soprattutto negli ultimi anni un po' come una sfida, un po' una competizione, non con gli altri perché non mi sento mai in competizione con gli altri ma con me stesso, diciamo che mi spingo sempre a migliorare, a cercare qualcosa di originale. Quindi anche se mischio il vecchio e il nuovo cerco in questa combustione diciamo la mia identità. Un'identità che è in continua evoluzione potremmo dire estrema, ma anche il tuo successo è increscendo, alta consagrazione sicuramente per la tua musica è stata festeggiare, musicalmente anche parlando, l'arrivo di questo 2023 sul lungomare più bello del mondo, Napoli. Per te cosa ha significato questo momento particolare riuscire a festeggiare con la tua musica, tu che sei artista, nel luogo nel quale ti riconosci, nel luogo natio, quello delle proprie origini? Sì è stata una soddisfazione, un obiettivo molto molto grande, soprattutto perché sono nato e cresciuto qui e poi è stata anche un po' un'esperienza onirica, in quanto quel giorno avevo la febbre, quindi praticamente quasi non ho realizzato quello che stesse succedendo, no però è stato un grande obiettivo, quindi io diciamo attualmente vivo più di obiettivi che di sogni, quindi era uno dei miei obiettivi e sono felice di averlo raggiunto. Strei, quali altri obiettivi? Ecco abbiamo parlato di questa creatività dentro di te che è sempre esplosiva, non ti fermi mai, così al pari del nostro vesuglio che un po' diventa iconico per chi nasce qui, hai un magma in continuo movimento, fra poco è in uscita un altro tuo singolo, che cosa dobbiamo aspettarci? Cosa possiamo anticipare al nostro pubblico? Guarda sì, mercoledì esce appunto una canzone che ha un titolo molto clickbait e molto ambivalente anche in questo caso perché si chiama proprio La terra è piatta, molte persone penseranno... Cosa dirà la tua musica in merito a questo argomento? Allora diciamo non voglio svelare troppo, però sicuramente sarà una canzone molto diversa dalle altre, anche se vogliamo un po' più scura. Anche nel sound? Sì, anche nel sound perché è una canzone molto più scura, ovviamente come le altre deriva da un momento un po' no, però comunque anche in questo caso cercherò di sorprendere, tra virgolette, l'ascoltatore con una canzone che forse da me da un lato non si aspetta, da un lato con le canzoni che ho fatto ciò appunto negli ultimi anni potrebbe anche aspettarsi. Che cosa, quali invece i prossimi live che ti vedono protagonista? Annuncerò a breve tutti i prossimi live, c'è una notizia molto bomba, si vuol dire che annuncerò molto a breve. Grazie a Stray per averci presentato questo suo nuovissimo singolo attraverso il videoclip Uscire e tanta buona musica, ma tanta creatività, quella del nostro artista Stray. Grazie, grazie di essere stato qui con noi, tanta buona musica. Grazie a te, grazie mille. Decideremo fra pochissimo, Piccolo Olo Black, restate con noi. Grazie a te, grazie a te.